Musica Antica Barberia Colla dal 1904 è un'istituzione a Milano per il taglio dei capelli ma non solo, anche per la salute dei capelli. Musica Questa esperienza ci ha permesso di poter creare negli anni una linea di prodotti sia per uso professionale sia per rivendita al nostro pubblico. Musica Una linea di prodotti che riguarda la cura dei capelli, la cura della barba e la cura dei baffi. Musica Utilizzabili all'interno del negozio come prodotti professionali e poi appunto rivendibili al pubblico. Da circa 5 anni questa linea è anche acquistabile attraverso un e-commerce il cui indirizzo è www.anticabarberiacollashop.com o all'interno del negozio in via Gerolamo Morone al 3 a Milano oppure adesso abbiamo iniziato una rete di vendita un po' più ampia sia all'interno di altri e-commerce specializzati per la barba o per la cura dei capelli a livello europeo o anche attraverso dei corner di rivendita in alcuni negozi specializzati. Musica Questa linea si compone di prodotti per la cura dei capelli, della barba e dei baffi. Musica Nello specifico abbiamo una linea di shampoo, un balsamo, una lozione, un dopobarba specifico per le pelli sensibili, dei latte dopobarba, un sapone da barba, un pennello in setole di maiale ed infine la cera per i baffi che permette di poter dare al baffo la forma che si desidera e permette soprattutto di fare quelli che vengono definiti manubri e ricci. Musica Sempre nella linea per la cura del capello abbiamo tre prodotti specifici che fanno parte solo della linea professionale per il momento. Si tratta di un olio per capelli che noi definiamo olio rosso per capelli, un gel che noi definiamo gel fico nero, una cera molto potente che permette di dare qualsiasi tipo di forma si desideri. Musica Nella linea professionale gli shampoo come il balsamo sono disponibili in confezioni da 500 ml perché è più comode da utilizzare a livello professionale. Invece per quello che riguarda tutto il resto della linea professionale, quello che è l'involucro di solito è quello che utilizziamo all'interno del nostro negozio dato che è stata studiata appositamente una boccetta di vetro. Musica 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 Grazie a tutti.